Per la serie Non è mai troppo tardi, forse, Andrea Ippoliti vuole un nuovo confronto con Nathalie Caldonazzo. La coppia era scoppiata durante l'ultima edizione di Temptation Island ma il commerciante 46enne aveva fatto di più frequentando dopo reality la tentatrice Zoe Mallucci che era stata tra le cause della rottura con la showgirl. In un'intervista al settimanale di più Ippoliti però ha confessato che in realtà la bella tentatrice si era avvicinato solo per ripicca e a Nathalie lancia un vero e proprio appello. Non ci sentiamo più ma con lei voglio chiarire perché merita tutto il mio rispetto, ha detto. L'ho amata profondamente e non meritava di essere trattata così, ha aggiunto, ammettendo di essersi avvicinato a Zoe in un momento di confusione e tristezza.